Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e volevo presentarvi un'interessante risorsa per l'educazione al pensiero critico, una tavola delle fallace logico-argomentative. Cos'è una fallacia? Una fallacia in logica e in retorica è definita una argomentazione che ha l'apparenza di correttezza, sembra costruita bene, ma che in realtà contiene degli errori, quelli che sono gli elementi che caratterizzano il ragionamento, per esempio si parte da premesse solo apparentemente vere, oppure vengono compiute inferenze scorrette, oppure ancora si sostiene una certa tesi con argomenti che sono irrelevanti o che non sono pertinenti o che non hanno nessun peso specifico. Questo poster lo trovate nel sito youallausicalfallacies.com, di cui inserirò il link nel box descrittivo del video quando lo pubblicherò su YouTube. Ed è stato realizzato da School of Thought, una organizzazione il cui compito istituzionale, per così dire, è quello di insegnare ai bambini non cosa pensare, ma come pensare. Una breve premessa prima di esaminare questi comandamenti logici. Viviamo nell'epoca della postverità, postverità significa certamente anche fake news, cioè notizie false che vengono inconsapevolmente, misinformazione condivise, o volutamente consapevolmente diffuse, disinformazione vera e propria. Ma viviamo anche nell'epoca del cattivo ragionamento. Quasi tutto il nostro ecosistema informativo mediatico è caratterizzato non solo da false notizie proposte come vere o percepite come vere, ma anche, forse in modo ancora più pervasivo, da cattivi ragionamenti. Quindi educare al ragionamento è fondamentale. Il contributo che offre questa tabella, questo quadro sinottico delle fallacce argomentative e logiche è quello di aiutarci, aiutare i nostri studenti a individuare gli elementi che caratterizzano un cattivo ragionamento, una fallaccia logica. Una volta giunti al sito, qui sotto in piccolo, vedete, c'è la possibilità di avere la versione italiana. Basta cliccare su Italian e qui abbiamo tutte le spiegazioni. Possiamo navigare la tavola col mouse, ci apparirà una definizione di quella che è la fallaccia che abbiamo indicato col mouse. E Platone, Socrate e Aristotele sono le tre fonti a cui si rifà, come padri del ragionare, della dialettica e della logica, a cui si rifà idealmente questa tavola. Possiamo scaricare gratis il poster cliccando qui. Ecco, abbiamo la possibilità di scaricarlo in italiano e anche di prenotarlo qualora lo vogliamo acquistare. Il costo comprensivo di tutte le spese, trasporto, spedizione e acquisto è di circa 40 dollari, quindi dovrebbe essere una 30-35 euro all'incirca. Però, appunto, qui si avverte che la stampa in italiano sarà possibile soltanto se ci saranno 200 prenotazioni. Per adesso ce ne sono 10, la mia è la decima. Per scaricarlo, invece, vedete, possiamo cliccare qui e possiamo così scaricare il poster in italiano, in formato PDF. E questo che vedete è il poster stampabile. Se poi clicchiamo su una di queste icone, per esempio appello all'emozione, ci apparirà una pagina dedicata a questo tipo di errata argomentazione logica, con il suo nome, una breve definizione e alcuni esempi, una definizione più approfondita e alcuni esempi finali. Un'altra risorsa molto interessante, ma che è disponibile solo in inglese, sono le carte del pensiero critico. Una volta che ci troviamo nella home page del sito in lingua inglese, si va di bene in italiano, non è presente, vediamo che, oltre al poster delle fallace logiche, ci sono le carte del pensiero critico. Si tratta di 54 carte, ciascuna delle quali rappresenta un errore di ragionamento, un biasis, cioè un errore di giudizio dovuto all'influenza di stereotipi e pregiudizi. Cliccando, possiamo o ordinare le carte del pensiero critico, vengono a costare tanto, circa 35 dollari, comprese le spese di spedizione, oppure possiamo stampare da un file PDF le carte stesse. Una volta scaricato il file PDF, vedete, avremo le carte, ciascuna delle quali reca ovviamente in inglese, quanto prima abbiamo visto in italiano, quindi definizione ed esempi. Quindi, queste carte si possono stampare, queste sono le carte sui bias, sugli errori di ragionamento, i biases, si possono stampare, questo è il retro della carta, e si può giocare con queste carte, si può giocare in vari modi, si possono per esempio distribuire e chiedere a ciascuno studente che individui in una notizia tratta dal web il tipo di errore logico che viene illustrato dalla carta in suo possesso, oppure le si può usare durante una discussione in cui gli altri assistono e giocano la carta quando pensano di aver individuato un errore nell'argomentazione di un compagno, insomma, ci sono vari modi per poterle utilizzare, venirebbe a tradurle in italiano. Ho finito, vi ringrazio, insieme a Platone, Socrate e Aristotele, vi saluto e vi auguro di non commettere fallacce logiche.